Contro la Sovacchia, secondo me, tutti pensiamo di poter fare una buona partita. Loro hanno perso di 9 contro la Romania e noi ce la stiamo giocata alla pari. Cercheremo sicuramente di dare il 100% anche se sappiamo che non sarà facile. In 12-13 giorni ci aspettino 4 partite, quindi sarà anche abbastanza importante gestire le forze anche se noi possiamo solo dare il 100% in campo. Dobbiamo essere convinti, lavorare bene questi giorni e pensare di poter fare buoni risultati. Anche con Mania e in Sovacchia non dobbiamo pensare di essere inferiori a nessuno. Poi il risultato, parlare al campo con il risultato. Grazie per la visione!